E a Sorrento numerose iniziative per festeggiare il cinquantesimo anniversario della nascita del liceo Salvemini. Alessandra Barone. Il liceo scientifico Gaetano Salvemini celebra il cinquantesimo anniversario della sua fondazione e lo fa con iniziative che raccolgono in una sintesi ideale gli studenti che tra i banchi della scuola sorrentina hanno percorso la loro crescita umana e culturale. Una festa che rappresenta anche l'opportunità per una riflessione dell'evoluzione del pianeta scuola negli ultimi decenni. La Regione Campania sta cercando in questi anni di essere al fianco delle scuole attraverso una serie di progetti, scuola viva, scuola di comunità, il trasporto scolastico gratuito per gli studenti. Durante tutto il 2020 ci saranno appuntamenti con il territorio, con la cittadinanza, con gli studenti, con chiunque sia interessato ad accogliere le nostre offerte culturali. Io sono orgoglioso di essere oggi qui come ex docente di storia e filosofia e come un operatore culturale che nel tempo è stato legato a questo liceo anche negli incarichi di governo. Grazie.